Olla! Grazie. La squadra sta bene, ha lavorato, sappiamo dell'importanza della partita di domani con l'Empoli e dobbiamo cercare di fare bene. Buongiorno, mister Giovanni Albanese Sport Italia. Al netto delle partite che sono da recuperare, quindi questa è una classifica per adesso virtuale, però ci sono squadre più attrezzate per occupare le primissime posizioni della classifica, a differenza vostra. Le ha sempre parlato di quarto posto, le chiedo fino a questo momento della stagione in cosa siete stati più bravi rispetto ad altri, grazie. La questione di essere stati più bravi, abbiamo lavorato molto su quelli che sono i nostri limiti, in questo momento siamo bene fisicamente e mentalmente, sapendo però che comunque domani ci aspetta un'altra partita da vincere, prima della partita tutti vincano le partite e poi dopo bisogna avere dopo. Tra l'altro l'Empoli ha cambiato allenatore, Nicola si è presentato con una bella vittoria, netta sul Monza 3-0 riscando poco e niente. La prima partita ha dato molta solidità alla squadra, non subendo gol e facendo tre gol. Comunque le partite vanno entri sul campo e quindi domani bisogna avere grande rispetto dell'Empoli, sapendo che è una partita complicata come sono tutte le partite. Buongiorno, Fabiana della Valle, Gazzetta dello Sport, volevo chiederti, visto che mancherà Rabbiosi, a centrocampo una soluzione più classica come Miretti o magari potremmo rivedere Cambiaso come nel secondo tempo di Lecce? No, credo che giocherà Miretti, poi ho qualche dubbio sugli esterni e in difesa, visto che Daniele è diffidato, deciderò se farlo giocare o meno. Comunque la squadra sta bene. Buongiorno Giovanni, guarda la Sky Sport, la mia domanda era su Danilo, quindi è a posto così, ne facciamo un'altra. Le chiedo appunto come sta chiesa, visto che ieri ancora se era nata a parte, non so oggi cosa ha fatto. Le chiedo se c'è un po' di preoccupazione, visto che sono passate due settimane dal fastidio e ancora non so se per domani sarà disponibile. No, per domani sarà disponibile anche perché è stata una settimana fermo, ieri ha fatto poco e niente. Quindi ormai lo portiamo, cerchiamo di portarlo nelle migliori condizioni, perlomeno a disposizione per la partita con l'Inter. È un giocatore che va recuperato perché è un giocatore molto importante per noi, soprattutto ora che inizia la seconda, già iniziata, la seconda parte della stagione. Bisogna avere tutti nelle migliori condizioni perché comunque abbiamo ancora da fare tanti punti e soprattutto abbiamo anche una semifinale di Coppa Italia da giocare. Buongiorno Ministro, benvenuti signore Mia Calcio News, so che lei ama sempre analizzare le partite step to step e mai parlare del futuro. Però siccome si parla molto dell'incontro del 4 di febbraio con l'Inter, volevo sapere da lei se dei tre risultati comunque la situazione non cambia, considerando che il campionato è ancora lungo. Poi le volevo chiedere cosa ne pensa, dopo nove anni, di Jurgen Klopp che lascia il Liverpool. Se ci possono, possono esistere questi momenti di stanca di un allenatore che magari preferisce cambiare aria. Grazie. Per quanto riguarda Jurgen Klopp ho preso la notizia e i motivi li sa lui, li ha spiegati. Comunque sicuramente non terminerà la sua carriera ma farà sicuramente altre cose importanti da altre parti perché è un grandissimo allenatore e l'ha dimostrato sia a Dortmund ma soprattutto l'ha dimostrato a Liverpool vincendo molto. Per quanto riguarda invece il discorso Scudetto non è questione dello scontro diretto perché mancano ancora dopo lo scontro diretto, dopo Juve-Inter, chiamiamola Inter-Juventus, se no scontro diretto. Perché comunque non scordiamoci che il Milan è la terza incomoda del campionato che può rientrare all'interno del campionato perché il Milan momentaneamente ha fatto più punti dell'anno scorso, se non sbaglio, e il periodo peggiore l'ha passato. Quindi secondo me ha le carte in regola per rientrare nella lotta a Scudetto. Quindi noi bisogna pensare a noi stessi, pensare a fare domani tre punti. Non è facile perché comunque, ripeto, l'Empoli è una scuola noiosa. Tra l'altro il primo anno l'Empoli vinse qui da noi. È una scuola comunque che ha qualità, che è portata a giocare. Una volta giocata la partita di domani vedremo cosa avremmo fatto. Però ci sono tanti punti in palio, quindi l'importante è rimanere in equilibrio. Questa è la cosa più importante da fare, sì. Buongiorno Max, Stefano Salandini, Tutto Sport. Tu ti intendi di tennis? No, intendo no. Intanto gioco, perché a Livorno quando vado a Livorno gioco il doppio. No, perché questa sfida tra voi e l'Inter sembra un po' una partita di tennis, no? Chi gioca prima, chi gioca dopo, ributta i punti nella palla avversaria. In questo momento storico, chi tra Juve e Inter assomiglia più a Sinner e chi a Diokovic, secondo te? Questo è difficile dirlo. Diciamo che il calendario fa così, una volta gioca prima la terra, una volta gioca prima gli altri. E anche il bello, se vogliamo metterla così. Quindi, tanto devi fare dei punti per arrivare in fondo. Cioè, per arrivare in cima o arrivare nei primi quattro devi fare un tot di punti. Quindi, o chi gioca prima o chi gioca dopo, è inutile se i punti li fai, poi dopo non arrivi. Quindi, noi bisogna pensare solamente a noi stessi, cercare di dare continuità, perché comunque mantenere la stiscella alta non è facile. E soprattutto bisogna avere una grande forza mentale e soprattutto di equilibrio. Perché in questo momento qui, nella seconda parte della stagione, fare i punti è molto più difficile. Quindi, poi voglio fare i complimenti a Sinner che stamattina ha visto giocare, ha fatto veramente una partita importante e straordinaria. Quindi, credo che per lui ha una carriera importante davanti a un mostro sacro come Diokovic che veramente, fino ad ora, ha fatto delle cose meravigliose. È sempre bello verlo giocare Diokovic. Ma non lo so, l'unica cosa che potrei dire è che, se noi siamo più giovani, come età, saremo Sinner e loro sono Diokovic. Ma non lo so, però, se no poi la prendono male. Buon pomeriggio, mister, romeoaggressi, gol.com. Io le chiedo, a che punto è la crescita di Miretti e in cosa deve fare ancora lo step successivo? Grazie. Fabio, tra l'altro, ha fatto, innanzitutto, un ragazzo del 2003 che credo che abbia già giocato quest'anno una quindicina di partite, più o meno, tra titolare e quando da subentro. Poi c'ha più di 50 partite nella Juventus e questo non è semplice, giocare nella Juventus per tante partite a quell'età. E fa delle buone cose e delle cose meno buone, come fanno tutti i giocatori, come facciamo noi, come fa l'allenatore quando sbaglia, fa delle cose buone e delle cose meno buone. Io sono molto contento, secondo me, per le potenzialità che ha, può fare decisamente meglio e quindi deve rimanere sereno e tranquillo perché comunque quest'anno intanto ha fatto gol, intanto ha fatto delle cose importanti anche in Coppa Italia, si è procurato il rigore. Quindi, come tutti i ragazzi giovani, diciamo, giocatori con meno esperienza che abbiamo all'interno della squadra vanno lasciati crescere, vanno saputi gestire nel momento in cui hanno un momento di down, ma è capitato a lui, a Fabio dopo il primo anno, è capitato a Fagioli all'inizio di quest'anno. Perché è normale che sia così, perché sono percorsi di crescita fino a che non raggiungeranno l'età giusta per essere maturi, ma soprattutto per avere un equilibrio, per far sì che possano giocare bene tutte le partite. Salve, mister Cristiano Corbo, il bianconero. È d'accordo quando si parla di cambio di mentalità della squadra in questa stagione? Grazie. Ma non è questione di cambio di mentalità. La squadra è omogenea, la squadra sta lavorando bene, ha voglia di lavorare, ha voglia di migliorare e questa è la cosa più importante. È una squadra che sta crescendo, è un percorso che ha iniziato e bisogna portarla avanti in totale serenità, con l'ambizione comunque tutti i giorni di voler migliorare e di fare qualcosa di importante. Salve, mister. Ho denito la stampa. Io volevo chiedere come è stata questa settimana diversa, come vengono gestiti questi asteriski in classifica e se c'è una quota alla fine Scudetto, se la giornata, quanti punti si dovranno fare per vincere lo Scudetto? Grazie. Sinceramente la quota Scudetto mi trova in difficoltà perché con questi punti è difficile dirlo. Io vi posso solamente, ripeto, lo dico, noi stiamo facendo un percorso, siamo contenti di essere lì, molto contenti, ma non bisogna accontentarsi e abbiamo di fronte una squadra che è l'Inter, che è una squadra forte, che è la favorita del campionato, che ha fatto un sacco di punti e quindi per noi essere lì vicini a loro deve essere un motivo d'orgoglio. Questo non vuol dire che bisogna accontentarsi, però l'Inter sta facendo cose straordinarie, ha vinto una Supercoppa, viene da diversi trofei, l'anno scorso ha giocato una finale di Champions, quindi per noi confrontarsi con loro è una bellissima cosa, visto che facciamo un percorso diverso. Antonio Polino, Radio Bianconera. Se non sbaglio, una delle prime volte che ti sento riflettere su un giocatore diffidato e quindi proietto magari questa riflessione su arrivare con la squadra migliore alla partita successiva. Ti chiedo se stai pensando però che potresti essere per una volta con l'Inter più forte, tutto quello che pensano in tanti, a più 4 sull'Inter e magari che tipo di soddisfazione o pressione potrebbe generare sull'una o sull'altra squadra arrivare con questo eventualmente vantaggio, eventualmente o comunque per qualche ora? A me pensare troppo, fare tutte queste cose, più 4, meno 2, meno 5, Noi abbiamo una partita difficile come quella dell'Empro, bisogna cercare di vincere domani, che è la cosa più importante, con equilibrio, facendo le cose ordinarie, senza fare niente di straordinario e poi avremo una settimana per preparare la partita successiva, perché poi dopo ne mancano altre tante, quindi altrimenti andiamo fuori il ritmo e questo non è una bellissima cosa per noi. Quindi noi bisogna rimanere ordinati nel tutto il nostro ritmo, sapendo che domani abbiamo una partita, poi abbiamo un giorno e mezzo di recupero e poi ci prepareremo per la prossima partita. Quindi in questo momento più 4, meno 4, non lo tengo assolutamente in considerazione. Buongiorno mister, Alberto Maron, messaggero Juventus News 24. La sensazione è che con il Dizio in campo la Juve giochi in modo un po' diverso, in fase offensiva. Io le chiedo se è d'accordo e che tipo di caratteristiche vede in lui rispetto ad esempio a Chiesa e quali sono le sue richieste nei suoi confronti. Grazie. Il Dizio è un giocatore che ha fatto molto bene in queste partite, che è un giocatore che rispetto a Federico strappa meno. Federico credo che sia unico nel suo modo di giocare perché è un giocatore che strappa, è un giocatore che da solo ti porta la palla di là. Ha caratteristiche diverse. Ogni tanto si defila sull'esterno, il Dizio invece gioca un po' più dentro il campo. però ripeto, va lasciato sereno, di crescere, di giocare, di sbagliare. Comunque già per l'età che ha è molto inquadrato. Volevo chiederti, se ti sei accorto, se la squadra in questa settimana ha vissuto in maniera diversa questo fatto di essere in testa della classifica, molti di loro non lo sono mai stati, quindi è una novità, se hai percepito qualcosa di diverso e se hai dovuto intervenire in qualche modo, o in un senso o nell'altro. Assolutamente no, abbiamo passato una settimana in serena, secondo me non ce ne siamo neanche accorti fortunatamente, quindi bisogna continuare a lavorare, anche perché l'Inter è una partita a meno. Poi ripeto, c'è il Milan che può rientrare assolutamente nella lotta dei primi tre posti, quindi su questo bisogna lavorare. Io dico sempre che, e credo che sia la cosa più importante, è mantenere l'equilibrio e pensare di partita in partita. Quest'anno ne abbiamo una alla settimana, e quando ci saranno una partita nei tre giorni ne penseremo ogni tre giorni. Ma è inutile pensare a quello che succederà fra tre mesi, perché poi il calcio è talmente bastardo, che un giorno sei bravo, e l'altro giorno invece non sei più bravo. Quindi la forza è avere un equilibrio costante. Soprattutto in campionato, dove ci sono 38 partite da giocare. Siamo alla 22esima, questa qui dopo domani, quindi bisogna continuare a lavorare serene e pensare a lavorare perché questa squadra ha margine di miglioramento e come ho detto già diverse volte, è una squadra che sicuramente per i prossimi tre, quattro, cinque anni può solamente che migliorare e quindi avrà un buon futuro. Buon pomeriggio, mister. Simone Nasso, oggi sport. Io ritorno sul tennis, perché in nottata abbiamo visto appunto il nostro sinner battere Diokovic rendendo possibile ciò che molti giudicavano impossibile. Di riflesso, tornando al calcio e alla Juventus, le chiedo, ma quanto ci crede questo gruppo nel cosiddetto traguardo impossibile? Il traguardo impossibile non era riferito, visto che io domenica dopo lei ci ho detto che nulla è impossibile, la cosa impossibile va resa possibile, non era riferita allo scudetto. È una condizione psicologica che bisogna avere nella testa, nel senso che bisogna fare il massimo e quindi non pensare che non si può arrivare in cima o che si può fare grandissime cose o che non si può vincere dieci partiti di seguito. Bisogna credere in quello che facciamo, la convinzione è molto importante. Poi dopo, ripeto, se ci saranno squadre più brave di noi alla fine della stagione applaudiremo come è giusto che sia. E quindi noi bisogna portare avanti il nostro lavoro con la convinzione di poter fare grandi cose. perché altrimenti se uno si mette i limiti è già difficile, cioè siccome la perfezione non esiste, però uno deve essere convinto di poter raggiungere la perfezione, che non la raggiungerà mai, però ti spinge sempre più in alto. Buongiorno, mister Filippo Monsignor, del Corriere dello Sport. Le chiedo se domani può essere l'occasione di UEA dal primo minuto. Grazie. Devo decidere, l'UEA sta molto bene, i cambi sono molto, come dico sempre, i cambi sono molto importanti durante la partita. A Lecce è entrato l'UEA, è entrato benissimo, lo stesso quando ha fatto Healing, che ha fatto l'assist per il gol, è entrato Alexandro l'ultimo di un quarto d'ora, dieci minuti, quando è entrato si è subito messo a disposizione. Milik lo stesso, bisogna essere tutti presenti, sia chi va in campo, che comunque chi viene in panchina. Buongiorno, mister, Nicola Balice, calciomercato.com e la stampa. Vorrei chiederle qualcosa sul momento di Ken, come sta intanto fisicamente, ma anche come umore in giorni in cui sembra molto vicino alla partenza. Grazie. Ken ora sta riprendendo il lavoro, quindi vedremo, momentaneamente, il giocatore è la Juventus, vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, perché ormai mancano tre o quattro giorni alla fine del mercato. L'ultima, un'altra di Guardalà. Volevo chiedere sulla gestione degli attaccanti, visto che ultimamente ne ha sempre tre a disposizione, quest'anno ha ripetuto più volte, purtroppo, visto che non ci sono le coppe, diciamo, le seconde linee, o chiamiamole come vogliamo, giocheranno di meno. Le volevo chiedere di Milik, come va gestito in questo momento, perché Vlaovic ha ripreso a segnare con continuità, quindi immagino che domani ci sarà, e con Ildiz, diciamo, inizialmente si trovano bene. Milik, come sta vivendo questa situazione, oppure se domani ha deciso di mandarlo in campo dall'inizio? Milik è sereno, perché comunque in assoluto sta bene fisicamente, mentalmente sta bene, soprattutto dopo i tre gol che ha fatto in Coppa Italia. È un giocatore affidabile, di grande tecnica, e comunque quando è entrato è risultato sempre determinante, perché comunque col Verona in casa, se non sbaglio, è risultato determinante, in altre situazioni è lo stesso. l'importante è avere questo spirito, perché tutti dobbiamo avere l'obiettivo di arrivare in fondo, ripeto, arrivare in fondo e l'anno prossimo cercare di giocare alla Champions. Questo è il primo obiettivo, l'obiettivo comune di tutti, perché più partiti ci sono e più giochiamo. Bene, grazie a tutti. Buona giornata, grazie. Grazie.